Rosa della Corte, condannata a 15 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso nel 2003 il suo fidanzato a Casandrino, è detenuta nel penitenziario del capoluogo Lucano, dove nel prossimo mese di aprile sposerà Donato Greco di Ostuni, a sua volta detenuto a Turi per un delitto passionale e condannato a 22 anni per aver ucciso un uomo che aveva ospitato la sua compagna dopo un violento litigio tra i due. In questi anni Rosa della Corte avrebbe ricevuto tantissime lettere di ammiratori in carcere, tra le numerose proposte di matrimonio avrebbe accettato quella di Greco. Le pubblicazioni sono già state affisse nell'albo pretorio del comune di Potenza, il matrimonio è stato fissato, ma tra i due sposi, almeno fino ad oggi, il rapporto è stato esclusivamente epistolare. I due, infatti, non si sono mai incontrati. L'amantide di Casandrino, la cui uscita dal carcere, prevista per il 2017, ha fatto spesso parlare di sé negli ultimi anni. Nell'agosto del 2014, ad esempio, si era resa protagonista di un'evasione, dopo un permesso premio trascorso a casa della madre a Napoli, invece di tornare in Puglia, dove all'epoca era detenuta, scappò a Roma, ma dopo qualche giorno fu rintracciata dai carabinieri. Ma non fu quello l'ultimo gesto eclatante da parte della donna. Dopo quell'episodio, la ragazza ha tentato per due volte il suicidio, all'inizio di quest'anno ingerendo lamette da rasoio spezzate e anche un piccolo crocefisso del rosario. Ora l'annuncio a sorpresa delle nozze a Potenza, con un uomo che non ha mai incontrato e conosce solo attraverso le decine di lettere che i due si sono scritti a vicenda in questi mesi.